Ha chiuso la semestrale con 48,5 milioni di utili. Quindi pensi un po', quando voi noi dicevano Supermarket Lazio. Io rito, quando sento queste cose, perché non mi risulta che io abbia messo in vendita qualcosa. Una cosa è certa, che in passato non bussavano, spingevano i piedi, il caccello, apre il trauma e prendevano. Da poi trovano il padrone e devono stabilire pure, devono chiedere permesso e poi quando io decido, era stupida la domanda, mi vuole dire quanto vale? Lo dica lei quanto vale. Noi l'altra volta una sera a cena abbiamo detto 100, a 100 lo diamo. No, mai, io ho rifiutato 110 milioni il 29 di agosto. 110 rifiutati, va bene. Ma questo non significa, perché io valgo il valore dell'uomo. Beh, è una soddisfazione, quanto l'ha pagato. Ma non c'è, ma, vedete, voi traducete tutto in termini economici. Siamo un po' pratici. Eh no, ma non è così, perché il valore, abbiamo detto prima, abbiamo detto che dobbiamo guardare il valore umano, l'uomo e la sua proprietà. Contro i 110 milioni c'è un ottimo ragazzo, questo lo sappiamo perfettamente, un grandissimo calciatore. Guarda, scusi, io allora valgo poco, perché percepisco nessuno stipendio, quindi... Eh, lo so, lei è nella Ollus Lazio, vediamo che... Grazie. 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 Grazie.